Sono le 10 e 8 minuti circa e siamo qui a Cis, a Bra, insomma, provincia di Cuneo. Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Io sono Francesco Piperi, se vi do il benvenuto alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, lunedì 18 settembre 2023. Abbiamo, come ben saprete, insomma, se ci seguite già da un po' di tempo, abbiamo modificato in qualche modo il nostro palinsesto in queste giornate per raccontare il più possibile da vicino la quattordicesima edizione di Cis, il sapore dei prati e lo slogan e il tema di partenza di quest'anno di Cis. Siamo qui oggi, diciamo, insomma, a fare una sorta di bilancio, se vogliamo, di questi quattro giorni che sono stati giorni molto intensi per chi ci ha seguito ieri anche, ma anche nel fine settimana. C'è stata veramente tantissima gente, un grande passaggio. E, diciamo, in partenza qui della settimana in cui anche noi di RBI e Radio TV registriamo dei cambiamenti, cioè cambia anche un po' il palinsesto dei GR, cambia anche la narrazione, se vogliamo, di alcune trasmissioni. E noi siamo qui oggi a fare una sorta di bilancio, lo faremo anche con Claudio Petronella, con la sua trasmissione, col suo Caffè Blu, ma adesso vogliamo ritornare a ragionare, come dire, di approccio ai temi di Cis dal punto di vista culturale a 360 gradi. Ce lo diciamo sempre, lo diciamo da quando è partita questa trasmissione, all'inizio di gennaio. Lo facciamo ancora più oggi ragionando con figure professionali appassionate, tra l'altro, figure professionali che ragionano, diciamo, sul tema del cibo, sul tema dei prati, sul tema dell'allevamento a livello culturale, come sempre, diciamo, in senso molto più ampio. Per cui io sono davvero molto contento di dare il benvenuto in questa prima parte di Almeno due Pagini al Giorno a Viola Marcelli. Buongiorno Viola, ciao, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Allora, tra l'altro, fatemi fare anche qualche ringraziamento. Al di là del ringraziamento ai tecnici, a Michele Comba, a Matteo Crespo, ad Alberto, che ricca, che insomma ci assistono, senza di loro, insomma, non saremmo in grado, come dire, di fare assolutamente nulla. Voglio ringraziare anche Walter Musso, ufficio stampa di Slow Food, ma anche di Cis, perché per il lavoro costante e di proposta, anche creativa, per le nostre trasmissioni, per la diretta. Allora, Viola, insomma, qui parlavamo poco fa di passioni, di forza, anche di senso, diciamo, da dare al lavoro che si fa. Io stamattina voglio fare un ragionamento con te intorno a diversi argomenti che partono, diciamo, dal tema, se vogliamo, principale, che è quello sui prati, che però si allarga, nel tuo caso, all'allevamento, alla pastorizia, certo alla produzione dei formaggi, ma anche al tema che suona anche già dal termine arcaico, come la transumanza, no? E che vogliamo declinare anche oggi al presente e poi soprattutto al futuro, perché per i nostri telespettatori, per i nostri radioascoltatori, insomma, la storia di Viola Marcelli è una storia familiare, di grande passione, di grande consapevolezza intorno al lavoro e alla conoscenza di quello che si fa. Intanto, voglio farlo dire a te, Viola, insomma, da dove arrivi e di quale realtà stiamo parlando, innanzitutto? Allora, io vengo da Anversa degli Abruzzi e ho un'azienda agricola, la cooperativa Asca, con un annesso agriturismo, il bioagriturismo, la porta dei parchi. Qui tutto è partito nel 77, i miei genitori si occupavano già di prati stabili, allevamento sostenibile già dagli anni 70, quando appunto tutti fuggivano dalle montagne per rifugiarsi nelle città, loro proprio in controtendenza, dopo ecco mio padre, una laurea in economia e commercio alla Sapienza di Roma, mia madre, una laurea in agraria all'Università di Firenze. Entrambi hanno fatto la scelta di tornare e impiegare tutte le loro forze, le loro passioni, le loro energie in questo progetto che è proprio quello di rivalorizzare l'antica pratica della pastorizia, ridarle, riconferirle dignità e soprattutto mantenere un presidio in queste montagne che appunto si stanno spopolando, cioè è stato uno spopolamento continuo dagli anni 70 a oggi la popolazione è diminuita drasticamente, ovviamente con l'abbandono anche di tutto quello che era la vita in quegli anni, quindi dall'abbandono dell'allevamento, dell'agricoltura e quindi il rimboschimento di molti prati stabili e quindi si è perso tantissimo patrimonio da questo punto di vista. Negli anni ovviamente noi abbiamo continuato a lavorare, io ora sono tornata in pianta stabile ormai da dieci anni, ero andata via per motivi di studio, non ero certa se sarei tornata... Sì, tra l'altro scusami se ti interrompo ma ho scoperto insomma cercando in rete anche elementi biografici che ti appartengono, tu hai studiato design in realtà e poi dopo hai come dire anche il design l'hai quasi piegato al servizio di quello che fai oggi no? Esattamente, sì sì, esattamente questo. Avevo io una vena creativa, insomma ho sempre amato l'arte a 360 gradi, il design poi mi ha dato modo di studiare l'arte applicata alla vita e quindi un metodo di ricerca che sicuramente poi mi ha servito tanto e quindi dal mio ritorno io ho cominciato a studiare quali potevano essere le declinazioni del design applicate all'agricoltura e all'allevamento. Quindi ovviamente cominciando da una più corretta comunicazione sui nuovi mezzi ovviamente di informazione, sui social, anche dall'arredo in generale dell'agriturismo o anche il colpo d'occhio che uno ha quando arriva da noi. Cercare di dare immediatamente quella sensazione di far sentire le persone in un posto dove c'è autenticità, c'è genuinità, c'è vita vera vissuta lì insieme agli animali, insieme alla natura, non nascondiamo niente e quindi sono anni che sia io che mio fratello siamo tornati a lavorare in agriturismo e dedicandoci ognuno a un settore diverso e io mi sono dedicata particolarmente alla comunicazione e alla caseificazione. Ovviamente sono tutti aspetti che sono legati tra di loro, non ci sono slegature perché da un buon pascolo abbiamo animali sani, abbiamo un latte buonissimo, abbiamo prodotti genuini e ovviamente questo poi si trasporta anche nel servizio, nella somministrazione anche di questi perché ovviamente nella somministrazione quando andiamo a servire il nostro ospite ci piace raccontare proprio quello che c'è nel loro piatto. Quindi ci torniamo tra poco su questi elementi, anche sull'attività della Porta dei Parchi perché per esempio voglio prendere spunto anche per fare un ragionamento anche come si diceva anche in apertura dal punto di vista ampiamente culturale, diciamo anche dalla figura del pastore, della pastorizia. Voglio prendere le mosse da un articolo molto bello insomma di Carlo Petrini di venerdì scorso su Repubblica. Il sapore antico di un mestiere da difendere, scriveva Petrini. Negli ultimi 40 anni il nostro paese ha perso la stragrande maggioranza dei pastori perché la figura del pastore, scrive Petrini, è stata via via associata a due immaginari distorti. Una bucolica e folcloristica, l'altra arretrata e antimoderna. Invece si scopre andando, insomma a fare un ragionamento un po' più approfondito, che in realtà il pastore e il custode del territorio di saperi antichi sanno fare uso razionale delle risorse naturali favorendo il mantenimento degli equilibri ecosistemici dei pascoli attraverso un continuo rinuovo della biodiversità in essi presente. Qui siamo su un altro campo di gioco, insomma, no? Esattamente. Quello che anche da anni noi ci cerchiamo di sostenere, anche richiedendo alle varie istituzioni del momento un supporto, è proprio questa dignità necessaria da restituire al pastore perché è davvero lui il custode della montagna, è davvero lui il custode degli animali, cura e segue in maniera zelante ogni loro passo e si preoccupa di quello che mangiano, di come dormono, di quando ci sono i parti, aiutarli a partorire. È davvero un mestiere incredibile, ma che purtroppo oggi in Italia, perché in realtà poi nel resto di Europa ci sono dei movimenti molto interessanti sullo studio della pastorizia e proprio ci sono scuole di formazione ben organizzate per il mestiere del pastore. Qui in Italia ancora non si è arrivato a quel punto. Ancora quando si parla di pastori e pastorizia si pensa a un mestiere che ormai da abbandonare è in disuso. Molti sono i giovani che stanno tornando alla pastorizia volontariamente, sicuramente non sono sostenuti dalle varie organizzazioni o istituzioni e quindi banalmente anche le loro sistemazioni, gli alpeggi, gli stazzi che vengono utilizzati principalmente durante la transumanza, quindi nei mesi estivi, sono delle cascine fatiscenti, senza servizi, dove ovviamente è difficile pensare di poter vivere una vita agiata. Quindi è ovvio che la connessione con mestiere di pastore e vita poco dignitosa è abbastanza veloce e quindi questo è sicuramente uno step su cui stiamo lavorando molto e che stiamo cercando di superare. Speriamo, insomma, nei prossimi mesi. La vostra storia è come la storia, diciamo, di molti vostri colleghi, diciamo, leggo anche dal sito di Slow Food, ma non solo, ho cercato in questi giorni di approfondire, diciamo, i temi legati anche alla tua attività, alla vostra attività e viene definita in qualche modo come una storia di ritorni, di ritorno ma non banalmente alla montagna, sempre lì, non dal punto di vista folkloristico. Ritorno che significa recupero dei territori montani, lo dicevi anche tu, ritorno all'economia rurale e questo non vuol dire, come dicevi poco fa, ritornare all'età della pietra, diciamo, perché invece significa guardare indietro preservando le tradizioni, che le tradizioni sono cultura, se guardano però al futuro, no? Con grande consapevolezza, ma soprattutto mi viene da dire, forse quasi banalizzando, con sempre più preparazione, diciamo, no? E sempre più cultura in senso ampio, perché poi voi, insomma, anche alla porta dei parchi, leggo, che date un valore, diciamo, non soltanto affettivo, sentimentale alla transumanza, per esempio, ma, come dire, chiedete anche a chi viene, ai turisti, di fare un'esperienza con voi e con i vostri animali e molti di questi turisti addirittura poi vanno via con il magone, diciamo, con le lacrime, perché questi sono momenti di distacco anche molto forti, no? Ci racconti, diciamo, come funziona il lavoro anche con i turisti, senza, cioè io non voglio banalizzare, perché il turista che fa questo genere di esperienza, diciamo, non è un turista qualsiasi, non è quello delle, diciamo, di Charmell Shake, scusa la banalizzazione. No, 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 esattamente. Noi abbiamo cominciato un lavoro proprio di comunicazione fatta in una maniera corretta riguardo la transumanza. Ovviamente è un percorso più o meno, insomma, in base alle giornate più difficile, soprattutto il primo giorno, cioè un po' più di salite, c'è un po' più da camminare, arrampicarsi un po' con le pecore e quindi è una corretta comunicazione, quindi le persone che vengono sono consapevoli già del luogo e del contesto che cominciano a vivere. Noi, ovviamente, ecco, non abbiamo le 5 stelle, le camere. Prima della pandemia, ecco, si dormiva anche in camerate e era molto più rustica. E funzionava. E funzionava e ha sempre funzionato molto bene. Ovviamente post pandemia ci ha costretto un po' a rivedere un po' anche le logistiche, gli spostamenti e quindi abbiamo cercato anche delle sistemazioni un po' più comode oltre alle camerate. Però il percorso praticamente parte da Anversa e per due giorni si sale fino in cima allo stazzo che è a 1600 metri. Qui si arriva con il pastore e generalmente c'è anche sempre un altro gregge che ci aspetta, ecco, sopra la montagna. E quando i due greggi si incontrano, le persone, non lo so, hanno delle espressioni sul viso che è qualcosa, cioè, solo guardarli ti riempie di emozione, va solo per le loro espressioni perché si emoziona totalmente tanto, gli sembra qualcosa di molto primordiale, una connessione molto intensa con l'animale, con la natura, con quello che uno ha vissuto. Perché secondo me anche seguire il pastore, vedere la cura che si prende dell'animale non è una cosa a cui oggi siamo più abituati. Un eco che viene da lontano perché vedo che anche le tue parole sono molto cariche di emozioni in questo momento, mi permetto di non fare, come dire, la tv o, diciamo, spettacolo, però in realtà questo vuol dire che evidentemente qua non stiamo parlando di marketing, diciamo, del prodotto in maniera, diciamo, assolutamente banale, ma stiamo parlando di qualcosa che viene da lontano, che guarda al futuro e che va difeso a tutti i costi, insomma. Esattamente, infatti io quando ho deciso di tornare ad Anversa e lavorare con i miei ho proprio pensato che l'unico modo per rimanere fosse non solo questa profonda consapevolezza del territorio, ma soprattutto, ecco, sentirsi fortunata e far conoscere agli altri la fortuna che avevo anche io nel vivere e nel portare avanti delle tradizioni così che comunque appunto guardano sempre al futuro, perché insomma cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e di in qualche modo anche rieducare le persone a una vita più naturale, più... Io ti ringrazio moltissimo per queste parole perché, insomma, evidentemente mi viene da dire che conversando con te penso anche che davvero non tutto è perduto ancora perché c'è ancora un grande margine, come dire, di miglioramento anche per il genere umano mi viene da dire. Quindi grazie davvero per questa condivisione, diciamo, con noi, per questa riconnessione spirituale perché leggevo anche su Slow Food, sul sito, che la transumanza porta anche con sé questo, diciamo, no? Perché è un'esperienza anche spirituale. Ma a proposito di connessioni ma anche di contaminazioni, il tempo corre velocissimo quindi, insomma, io vorrei chiederti davvero tantissime cose, però mi ha colpito un altro elemento anche della tua biografia e della tua biografia familiare. Cioè, tuo padre nel 2004 e nel 2007 è stato in Afghanistan per conoscere la cultura della pastorizia di quei luoghi, no? E c'è stato anche lì un incontro molto forte e molto potente, i cui saperi poi sono stati portati in Italia. Si parla qui di contaminazione di culture e di esperienze che portano anche alla contaminazione di provenienze perché leggo che da voi ci sono e arrivano, ma anche per lavorare con voi, persone praticamente da tutto il mondo, o no? Sì, esatto. Per noi la contaminazione è fondamentale perché posso dire con assoluta certezza che se non fosse per le contaminazioni e quindi per tutti gli apporti che i vari collaboratori o ospiti ci hanno regalato negli anni, probabilmente noi non saremmo lì. Sicuramente abbiamo tutti i collaboratori, diciamo per la maggior parte, extra-regionali se non extra-nazionali perché vengono tutti da Pakistan, Romania, Venezuela, Kosovo, Macedonia e davvero se non fosse per loro, oltre ad aggiungersi poi nel tempo anche collaboratori, sì, da fuori regione come dal Veneto, dalla Lombardia e stanno veramente portando tantissimo alla nostra attività non solo dal punto di vista delle competenze ma anche da un punto di vista umano perché io credo che quando uno lavora in un certo modo a un certo punto si fa un po' calamita, attrazione per chi ha questo stesso modo di vedere le cose e quindi devo dire ecco che negli ultimi dieci anni ho notato questo, finalmente questa commistione di saperi, di culture che stanno andando tutte nella direzione giusta e quindi ci sta aiutando tantissimo nel nostro lavoro di rivalorizzazione di queste pratiche. Parliamo ancora un attimo della Porta dei Parchi, il bioagriturismo ad Anversa degli Abruzzi, provincia dell'Aquila, se non sbaglio, e leggo anche un vero e proprio accesso, voglio leggere perché molto spesso le definizioni sono molto più belle delle interpretazioni che noi possiamo dare, un vero e proprio accesso alle bellezze naturali dell'Abruzzo, dal Parco Nazionale d'Abruzzo al Parco Nazionale della Magliella e altre riserve regionali. È una porta che apre sulla meraviglia più totale, no? Esatto, noi abbiamo questa location privilegiata proprio che ci dà la possibilità di arrivare, noi siamo davvero a 4 chilometri dal casello, la nostra autostrada è un'autostrada poco frequentata, quindi non c'è traffico mai. Questo è un bene. Esatto, quindi insomma le persone apprezzano molto anche questo quando arrivano e quindi tutto è facilmente raggiungibile, dalla provincia di Teramo alla provincia di Chieti, Pescara, l'Aquila, in un'ora si è ovunque in Abruzzo e veramente l'accesso a tutti i parchi, ma dalla costa, la costa dei Trabocchi, le montagne, i vari parchi della Maiella, del Gran Sasso, del Velino, sono veramente tutti a portata di mano e sono assolutamente tutti da conoscere. Andiamo verso l'autunno, tre giorni comincia l'autunno e in che fase siamo, diciamo anche dell'attività del vostro bioagriturismo? Cioè la transumanza sta per iniziare in corso, ci dai anche qualche informazione anche intorno a questo, pensiamo anche per i prossimi turisti che vorranno. Allora, la transumanza, quella di salita, noi la facciamo da giugno, la facciamo in più step, perché ovviamente diversifichiamo un po' le greggi, abbiamo 1400 pecore e 300 capre, quindi le portiamo su un po' per volta in base al loro periodo di gestazione o lattazione. Adesso a fine ottobre faremo quella di discesa, quindi l'ultimo weekend di ottobre, dove riscenderanno tutte insieme, molti avranno già partorito, quindi ci sarà anche questa bellissima situazione in cui gli agnelli verranno riscesi sul camion, mentre le mamme scendono camminando e poi quando arrivano in stalla c'è questo incontro dove gli agnelli e le pecore si ritrovano ed è emozionante da morire, perché loro quando nascono vengono segnate con un numero, quindi 1-1, 2-2, 3-3. Nella stalla tu vedi perfettamente il ricombaciare di mamma e agnellino, che è qualcosa veramente di commovente. Torniamo anche qui, diciamo, proprio, come posso dire, alle origini anche dello stare al mondo, se posso aggiungere. Noi credo che siamo in coda a questa conversazione. Io, Viola, ti ringrazio tantissimo perché abbiamo ragionato molto ampiamente, ma anche in punta di emozioni, per cui ti ringrazio molto, al di là della retorica succedono anche queste cose. Noi siamo felici, diciamo, di essere lontani dal qualunquismo, se vogliamo, intorno ad argomenti di questo tipo. Viola Marcelli, referente della comunità slow food dell'Aquilano per l'allevamento transumante, gestisce la porta dei parchi ad Anversa degli Abruzzi. Viola, grazie ancora, buon lavoro e buon autunno, insomma, per tutto. Grazie davvero per essere stato qui con noi a RBI. Grazie, grazie davvero. E allora noi ci prendiamo una pausa, spazio al GRD Popolare Network e ci rivediamo ancora dopo la pausa da CIS Abra.